Musica Lucio Brando, allora la vigilia della partita contro il Corticella punto della situazione dopo una settimana successiva al match di San Mauro Pascoli La situazione è che fortunatamente siamo riusciti per la prima volta un po' dal mio arrivo a fare una settimana completa una settimana tipo, questo è sicuramente una buona cosa visto che abbiamo avuto modo di lavorare di continuare a fare dei progressi, a mettere dentro altre nozioni è stata una settimana dove abbiamo lavorato fortissimo i primi tre giorni poi è normale che con l'avvicinarsi della partita siamo andati avanti con un paio di rifiniture la squadra sembra che stia bene, stia sempre meglio anche tra di loro e tra di noi quindi dai ci sono tutte le premesse per poter fare domani una buona partita Ecco mi immagino che stai lavorando anche sotto il profilo mentale, psicologico, sui giocatori un gruppo che deve trovare un po' la convinzione anche dei propri mezzi magari c'è questa miniserie positiva che siamo riusciti a fare dicevamo anche dopo San Mauro Pascoli, eventualmente dovesse arrivare il risultato pieno domani anche questo valorizzerebbe ancora di più il pareggio di domenica scorsa Sì sì, questo lo sappiamo è normale che si vanno a toccare un po' tutte le sfere quella tecnica, quella tattica, quella organica, quella mentale fa parte del nostro lavoro Io credo che anche con il seno del poi sia stato un risultato positivo nel senso che non abbiamo fatto una partita della vita ma abbiamo anche incontrato un avversario con una classifica migliore della nostra fuori casa, noi erano tre partite che non prendiamo gol, loro quattro quindi non un avversario facilissimo quindi insomma, come giustamente hai detto sono d'accordo fare una buona gara domani soprattutto se riuscissimo a portarla a casa piena a quel punto lì daremo ancora più valore a quello che è stato fatto nelle settimane precedenti ma detto questo ci concentriamo sulla partita di domani una partita di nuovo difficile contro un avversario l'avversario è un po' particolare stiamo parlando di secondo attacco, seconda difesa dei numeri proprio un po' particolari è l'unica squadra del girone che nelle ultime cinque partite ne ha 24 ha fatto meglio anche delle primissime, della prima quindi è una squadra di nuovo in salute, in forte salute una squadra che gioca un calcio particolare è un calcio molto, molto, molto propositivo bisognerà essere attenti concentrati e anche qua riprendo un pochettino il sostantivo che hai usato sull'autostima ci si lavora e chiaramente fare delle ottime performance vuol dire sicuramente migliorarla, aumentarla noi stiamo cercando una nostra identità stiamo cercando di farlo quotidianamente ovviamente i risultati ti aiutano in questo processo E con attesa di sentire anche Roberto Nardi che è qui accanto a noi di Prato Reis un bollettino generale indisponibili, sicuri per domani? Ma allora sicuramente Cecchi sicuramente Campaner lo stiamo valutando Trovate ma di fatto è 15 giorni che fermo ha fatto solamente col gruppo e neanche completamente la seduta di ieri di oggi per il resto insomma dovrebbero essere tutti disponibili beh chiaramente Frugoli gli altri dovrebbero essere tutti disponibili Allora Roberto Nardi una domanda per il mister Appunto parlavi un po' di una partita contro una squadra che fa un calcio propositivo cioè lo stesso diciamo si può dire da parte nostra ecco domani che partita dobbiamo aspettarci? Come dicevi appunto i numeri dicono di una squadra il Corticella che non pareggia quasi mai un solo pareggio ecco che partita dobbiamo aspettarci dal punto di vista tattico? Finirà 4-4 sicuramente sicuro Allora è una partita tipica veramente non facilissima da preparare però l'abbiamo studiato bene abbiamo delle idee molto chiare su come la vogliamo come l'abbiamo preparata insomma una squadra che ti offende sempre con con 5-6 giocatori è una squadra che porta tantissimi giocatori dentro l'area di rigore è una squadra che veramente se non sei sul pezzo ti ti fa del male direi che anche domenica Ravenna ne hanno dato ampia testimonianza è una squadra che crea veramente tanto 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 noi questo lo sappiamo dobbiamo avere anche questa capacità qua nel trovare anche la nostra identità la nostra mentalità io ho usato una parola quando sono arrivato e ho chiesto ai ragazzi di avere una mentalità dominante ecco avere una mentalità dominante vuol dire averla anche quando magari la palla ce l'hanno gli altri sappiamo essere dei buoni palleggiatori hanno delle grandi qualità individuali hanno idee perché poi alla fine si vede che lavorano su determinati concetti hanno giocatori intelligenti ragazzi validi la partita complicata però ci siamo anche noi